Quattro punti in due partite, sono tanti. La classifica dice salvezza, però il gruppo è ancora lì ed è pieno di pretendenti alla salvezza. Sicuramente la classifica è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto delle ottime prestazioni ultimamente, però è inutile dire che sono tre partite fondamentali. Ora le premesse sono cambiate, perché rispetto a tre o quattro partite fa abbiamo dato delle risposte a livello di prestazioni, perché la sconfitta di Empoli in casa, per il clima che si è respirato allo stadio e per chi c'era, si era capito che è stata vissuta da tutto l'ambiente come una vittoria. Quindi tante volte siamo abituati a vedere e a commentare il risultato in sé, quando invece una prestazione come quella contro l'Empoli ci ha dato l'autostima necessaria per fare poi i punti che abbiamo fatto successivamente. Adesso però arriva il difficile. Ora è il difficile, però se possiamo dire una cosa di questa squadra è che ha sempre dimostrato uno spirito di sacrificio, una predisposizione a lottare, che è utile e fondamentale per le squadre che sono lì in fondo. Ecco, questo credo che a questa squadra non si possa togliere. Grazie a tutti.